Oggi è una giornata particolarmente importante per il mondo dell'artigianato. 4.500 imprese dedicate ai servizi, tra cui 2.000 dedicate ai servizi alla persona, riprendono a lavorare, riaprono le loro botteghe, riprendono in mano un disegno della loro vita e avranno l'opportunità di dare di nuovo un servizio alle persone, ai loro clienti affezionati che potranno tornare da loro. Io credo che queste persone che hanno dovuto per lungo tempo tenere chiuso e che si sono preparate in modo particolare a questo appuntamento, a loro va un particolare grazie per l'attenzione con cui si sono preparate. Io credo che queste persone con dedizione e umiltà daranno ancora un grande contributo per la ripresa di questa regione, di questo Paese, del lavoro e del comparto dell'artigianato. Un augurio a loro e un augurio a tutti noi.